buongiorno a tutti allora tour de force oggi perché ho preparato ieri anzi stamattina perché ho finito alle 7 del mattino di vedermi le due gare che si sono disputate sabato di sci felpettina naturalmente da bru che freddo che fa anche se ormai la temperatura s'alza ma d'altronde questa la felpa d'ordinanza per le gare di sci quindi stamattina mi sono visto sia la discesa libera femminile di val di fasta del 27 di febbraio quella del 26 ve l'ho già raccontata sia lo slalom gigante maschile sempre del 27 a bansco però sempre 27 di febbraio quindi andiamo a vedere come è andata la discesa libera femminile val di fasta del 27 febbraio 2021 e dopo vi farò anche il video della slalom gigante maschile allora la prima a scendere è la nostra elena curtoni che nella gara di venerdì 26 febbraio è stata undicesima obiettivo prime dieci magari sfruttando il pettorale 126 e 54 il suo tempo e adesso vediamo come andrà con il pettorale 2 scende la svizzera fleuri e con una gara sempre in luce verde alla fine si prende la prima posizione con 19 centesimi di vantaggio non una cosa buona per la nostra sciatrice visto che ahimè la fleuri è brava ma non bravissima con un pettorale 3 scende brecy johnson ma purtroppo scivola dopo circa un minuto di gara e finisce come una bella pesciotta nelle reti speriamo non si sia fatta male no comunque poi si è alzata subito io mi sono spaventato perché c'è rete e dietro c'è ancora la rete lei ha sfondato la prima e ha mezzo sfondato anche la seconda ho detto questa si è fatta malissimo invece si è alzata tutto a posto c'è anche il paradenti era abbastanza inviperita perché le burlata già come se dice a milano è caduta tocca la ghisin pettorale 4 una gara per lei sempre in luce verde ma alla fine davanti per solo un centesimino e forse per il podio non sarà sufficiente staremo a vedere anche perché finché non scende la gut non si sa nulla con il pettorale 5 scende con insulte e anche per lei gara sempre libidi nel luce verde e con un tratto finale in cui incrementa il suo vantaggio ed è prima con ben 49 centesimi direi che questa è una gara da podio anche perché corin è una che in discesa libera ci sa fare è anche parecchio ed ecco ci siamo scende lei o non è lei è lei o non è lei certo è la lara gutt berami e come dico sempre complimenti berami che te la sei sposata sapete chi è berami il giocatore credo che sia nel genoa centrocampista si è sposato la topolona comunque con il pettorale 7 scende la gutta e come ieri io ho scritto ieri ma bisognerebbe dire venerdì 26 febbraio anzi forse anche meglio di venerdì 26 febbraio scende alla grande e si prende a sua volta il primo posto con 32 centesimi di vantaggio e adesso sì che credo che il primo posto sia ipotecato perché sarà dura stare davanti alla ragù perché ha proprio come si suol dire pennellato con il pettorale 8 scende la nostra piccolina nadia del lago nella gara di venerdì sedicesima obiettivo prime 15 per ora è solo settima con un distacco di 1 e 31 quindi è ultima perché una è caduta e quindi ncs non ci siamo con il pettorale 10 scende la nostra federica brignone venerdì solo diciassettesima si può e si deve fare molto bene meglio ecco io ho scritto si deve si può e invece anche lei ncs non ci siamo non ci siamo non ci siamo ritardo di 2 16 perché ha preso tra l'altro un palo quasi a fine gara ha perso era sul piano ha preso il palo non è che è uscita però toccando dentro nel palo ha rallentato è arrivata giù a 115 le altre arrivavano giù a 120 121 122 e quindi ha perso un ulteriore botto di tempo ed è ultimissima con oltre due secondi è già buona se resta nelle 20 con il pettorale 15 scende la nostra laura pirovano venerdì ottava e migliore delle italiane sarebbe ottimo se lo confermasse e invece no perché lei è ancora più brava lei sta crescendo molto bene lei ci sta dando tante belle soddisfazioni la nostra lauretta pirovano sperando che il fisico regga non si faccia male eccetera perché anche lei qualche infortunietto di troppo ma sta facendo libidine è quinta è quinta soli 79 centesimi e probabilmente prime 10 assicurate forse forse resterà pure quinta però comunque con questo tempo qua non penso che faccia peggio di venerdì ma sicuramente farà meglio 79 centesimi vedremo poi a quanto sarà dal podio alla fine della gara con il pettorale 20 scende la nostra marta martissimo abbazzino che tra l'altro sabato ha compiuto anche gli anni non si dice mai l'età di una donna venerdì male ventinovesima ma almeno nelle 30 c'è rimasta oggi si spera almeno nelle 20 purtroppo fa peggio di federica brignone è solo diciannovesima addirittura 2 32 ncs anche per lei non ci siamo non ci siamo non ci siamo va bene che manca la goggia va bene che manca la nicole de lago sorella di nania va bene che la la laura pirovano sta crescendo piano piano ma ce l'aspettiamo anche in gigante e in super g perché laura pirovano sarà un altro freccia al nostro arco insieme al trio brignone massino sgoggia la de lago può essere fortissima nelle discipline veloci e magari anche in gigante la sorellina sta crescendo bene ma è giovanissima ci abbiamo una bella squadra femminile ci abbiamo anche i ricambi per ogni tanto anche loro è ncs non ci siamo comunque classifica dopo la discesa delle prime 20 che solitamente già almeno per le prime posizioni quasi quasi sicura quasi abbiamo la gutta al primo apposto col tempo di 1 25 53 al secondo corin sutter a 32 centesimi al terzo la widol a 68 centesimi al quarto la si benofer a 76 centesimi al quinto la pirovano a 79 centesimi quindi per ora 11 centesimi dal podio è libidine al quinto a pari merito con la pirovano abbiamo la wikof lee che ogni tanto la segno come wikof e a volte come lì comunque lei sarebbe lì wikof lee però per fare prima volta metto lì perché magari non ci sta al settimo la ghisin all'ottavo la fleuri al nono la gagnon e al decimo la nostra elena curtoni che per ora ha migliorato la gara di venerdì con un decimo posto e comunque lei è sempre lì decima undicesima dodicesima decima undicesima dodicesima manca quel quid in più anche di elena curtoni che ce l'aspettiamo prossima stagione per quanto riguarda le altre tredicesima la nostra nadia del lago diciottesima la brignone diciannovesima la bassino mi auguro che riescano a restare nelle trenta sarà dura che restino nelle venti ne devono scendere ancora tante con il pettorale 22 scende la gottie ma dopo mezzo secondo scarso di gara scivola e deve salutare la competizione praticamente semplicemente scivolata ma si è alzata subito saranno spaventati i cronisti poi invece si è vista che si è visto che è scivolata e immagine dopo era già in piedi che tirava giù qualche moccolo per essere scivolata senza offendere lassù però mi sa che qualche parolina mi è scappata con il pettorale 26 scende la nostra francesca marsaglia purtroppo ennesima gara non positiva e solo ventitresima con un ritardo di 2 e 37 anche per lei un bel ncs non ci siamo ma teoricamente dovrebbe essere nell'elenco delle 25 sciatrici che disputeranno le finale a lenzeraide penso verso fine mese perché adesso ci sono ancora qualche garetta e poi ci saranno le finalissime per il gigante super gigante lo slalom la discesa libera e non so se fanno anche la combinata o se faranno ancora un altro parallelo comunque in base alla classifica ve lo spiego poi vi faccio il resoconto finale le prime 25 nella classifica delle varie specialità possono partecipare alle finali quindi sei punti sufficienti sei delle prime 25 della specialità di gigante puoi partecipare lo stesso super gigante discesa libera eccetera eccetera più tutte le sciatrici che hanno raggiunto almeno 400 punti c'è solo una discrepanza lì le prime 15 prendono punti in quelle gare dal sedicesimo al trentesimo posto non prendi neanche un punticino quindi anche se arrivi sedicesima non prendi punti questo serve per chi si sta giocando il mondiale di coppa di specialità che sono in tre gisin gutt blova sono loro tre che si giocano e mentre tra i maschi dovrebbero essere ve lo dico dopo quando parleremo dei maschietti detto questo la classifica dopo la discesa delle prime 30 atlete vede la gutta al primo posto la sutera al secondo la wider al terzo la si benoffera al quarto pirovano elì a pari merito al quinto la ghisine settima la florì è ottava la gagnone nona e la curtoni è ancora decima per quanto riguarda le altre nostre italiane tredicesima la delago ventitresima la brignone ventiquattresima la bacino venticinquesima la marsaglia al termine della gara le posizioni sono rimaste invariate l'unica differenza è che si è inserita al trentesimo posto la nostra roberta melesi che forse è la prima volta che riesce non lo so magari dico una sciocchezzuola comunque roberta melesi prende un bel punticino nella gara di gigante di scusate di discesa libera le altre due invece ahimè sono fuori dalle prime posizioni dalle prime trenta però positivo che la melesi è riuscita ad entrare in classifica è sempre è sempre bello ogni tanto riuscire a partecipare cioè arrivare nelle trenta perché sono sempre piccoli step chiamiamoli così per poi inizi ad entrare nelle trenta entrare nelle trenta entrare nelle trenta poi inizi ad entrare nelle venti fai esperienza 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 e alla fine puoi diventare anche la nuova brignone la nuova bassino la nuova goggia o la nuova compagnoni chi lo sa detto questo ragazzoli io vi saluto vi ringrazio ci vediamo alla prossima ciao